Giocare, ridere e scherzare a debita distanza con i propri piccoli amici. Il sogno di tanti bambini e delle rispettive famiglie diventa realtà in tempo di Covid-19. Un ulteriore passo verso la normalità che in questi mesi di quarantena l'ha resa solo un ricordo. Manca ancora la firma del primo ministro Giuseppe Conte, è questione di ore, ma da lunedì nei parchi già aperti i piccoli potranno fare le attività ludico-ricreative, detta in soldoni giocare in compagnia. Ma anche di organizzare piccole attività in piccoli gruppi in modo sperimentale con operatrici e operatori, educatrici ed educatori, quindi questo è un passo avanti. Dal primo giugno, se appunto sarà confermato quello che ha annunciato ieri la ministra Bonetti, dovrebbero poi poter partire i centri estivi in modalità naturalmente diverse, quindi modalità in sicurezza. L'apertura dei centri estivi è l'altra bella notizia, mancano ancora alcuni dettagli, ma in linea di massima si partirà con piccoli gruppi che variano a seconda della fascia di età. L'aspetto importante, sottolineato dall'assessore Schlein, è che i bimbi accolti su più turni saranno seguiti sempre dallo stesso e dagli stessi educatori, senza contatti tra gruppi diversi. La cosa importante per noi era tenere conto anche delle modalità specifiche che servono per bambini e ragazzi con disabilità, perché lì serve un'attenzione ancora maggiore, serve un rapporto educativo ancora più alto, perché deve tendere verso l'uno a uno, ed è anche una misura che serve, diciamolo, a affrontare il tema della difficile conciliazione dei tempi vita e lavoro. Qui noi l'abbiamo detto con forza al Governo, non si può avere una strategia per il riavvio delle attività lavorative senza che sia accompagnata da una strategia di sostegno alle famiglie, in particolare alle donne, ecco, perché non vogliamo vedere passi indietro dal punto di vista della conciliazione. Il Governo ha messo a disposizione 150 milioni per accedere ai centri estivi, si potranno utilizzare anche i bonus babysit. Le modalità di iscrizione quest'anno saranno diverse rispetto agli anni passati, ha concluso Elie Schlein. Grazie.